Adesso basta! Adesso i voti li diamo noi! Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti! Io ancora non ci credo! No, in effetti! Io ancora non ci credo! Regà, stasera sono tornato a casa, il signorino ha comprato Gazzetta e Corriere dello Sport, me li ha fatti trovare sul letto? Ovvio! Io ancora non riesco a realizzare, è una cosa proprio che il mio cervello non collega, nonostante l'ho vissuta! Non riesci ancora a realizzare! Detto questo, una marea di mi piace su questo video arriveranno tanti nuovi pagelloni, tantissimi nuovi contenuti sul mondo del calcio, iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche, stessa cosa sul secondo canale YouTube, canale de calcio parallelo a questo, abbiamo anche un terzo canale YouTube non de calcio, trovate tutto in descrizione oppure cliccando qui, siccome qui andiamo a dare i voti, miei e tuoi, calciatore per calciatore di questo europeo, dobbiamo essere un po' più rapidi perché se no rischiamo di valutura a 10 ore... Sì, rischiamo di non dilungarci troppo anche perché i calciatori sono tanti! Date un voto qui sotto nei commenti ai vostri calciatori... ai vostri... ai calciatori dell'Italia e fateci sapere secondo voi chi è stato il migliore in assoluto, Gigio Donnarumma, vai! Qui davanti abbiamo la lista dei calciatori ovviamente! Sì, abbiamo la lista dei calciatori e a Donnarumma non posso che dare il voto massimo, voto 10! Perché non c'è altro voto! Non c'è altro voto da dare a Donnarumma! È stato la perfezione in assoluto, mi permetto di dire che tutti i gol che ha subito non sono sua responsabilità! No, non ha avuto nessuna responsabilità, è sempre stato impeccabile e ai calci di rigore si è dimostrato il top player che ci è mancato forse... Punto! In questa rassegna che tutti dicevano non c'è un top player per l'Italia perché il nome manca è... Le nonne e le zie! Allora io per Sirigu e Meret, nonostante Sirigu abbia giocato... Sì? Io mi sento di dare un senza voto ad entrambi! Vabbè, sì, per forza concordo anche io perché comunque le abbiamo visti troppo poco per poterli giudicare, Meret anzi non l'abbiamo visto proprio... Sì! Sirigu ha fatto pochino però... Pensavo Pogba! No, pochino e troppo poco per poterlo giudicare Passiamo ai difensori e partiamo da Acerbi in ordine alfabetico Alfabetissimo! Che voto gli dai ad Acerbi? Acerbi ha giocato, si è dimostrato sempre utile perché poi quando si è fatto male Giellini secondo me si è sempre fatto trovare prontissimo e secondo me un 7,5 se lo prende alla grande Aveva fatto pure assist per un gol di Pessina? Assista per il gol di Pessina E io per quel motivo credo che un 7,5... Io 7,5 glielo do anche io, secondo me è il voto più giusto Ero indeciso tra 7 e 7,5 però mi sa che alla fine un 7,5 ad Acerbi bisogna darglielo per forza di cose Bastoni! Ma Bastoni non voglio essere troppo severo perché comunque l'abbiamo visto poco Un voto se lo merita secondo me sarebbe il classico 6 di incoraggiamento ma proprio perché abbiamo vinto l'Europa ragazzi penso che almeno un 6,5 se lo possa meritare e c'ha tutto il futuro dalla parte sua ragazzi Può prendersi giovanissimo può prendersi le retini della difesa della nazionale per gli anni a venire Io gli voglio da 7 Ciò può stare Ha ripagato quando è stato chiamato in causa Chiamate In causa la fiducia dei mancini Io il 7 glielo do Giusto Qua sono curioso di sapere che mi dici Bonucci 8,5 Vai Motiva Già pensato perché comunque è sempre stato perfetto possiamo dirlo ragazzi però c'è stato secondo me chi ha fatto meglio di lui in quel reparto però 8,5 se lo merita tutto Io sono indeciso in realtà Assegnato insomma è stato fondamentale Sì è stato fondamentale perché io do 8,5 pure io 8,5 ragazzi non meno 8,5 No assolutamente E andiamo a Giorgio Chiellini Giorgio Chiellini il nostro capitano ragazzi voto 9 Voto 9 pieno strapieno perché è stato un qualcosa di fenomenale Ha annullato qualunque giocatore qualunque attaccante gli si è parato davanti Un muro Un muro invalicabile Esatto un muro invalicabile non l'ha passato mai nessuno Un ragazzino di 12 anni no C'è una certa età Esatto Mi sento dettagli pure io mezzo voto in più rispetto a Bonucci Non è una mancanza di rispetto nei confronti di Bonucci È solo un semplice e puro parere personale Assolutamente Però penso che sì 9 L'età veniva dato ormai praticamente come Eh lo so è stato caminato Finito è tornato e rega ha trascinato È stato il nostro capitano ragazzi ha dimostrato quanto è stato importante per noi Di Lorenzo Di Lorenzo guarda ti dico la verità a tratti mi ha convinto C'è stata quella famosa partita Contro il Belgio ci ricorderemo tutti Però comunque secondo me in 7 Forse anche 7 e mezzo se lo merita pienamente Perché si è dimostrato comunque all'altezza della situazione Cioè a tratti ha un po' gnazzicato come si dice da ste parti Però alla fine ragazzi è stato lui il titolare Io gli do 7 Ero un deciso periodo col 7 Gli do 7 per quelle piccole incertezze che ci ha avuto Però per l'europeo che ha fatto sicuramente è altamente positivo Esatto Florenzi ha giocato poco Ma Florenzi purtroppo ha giocato poco Senza voto per me Io però per come sarà pure proposto in campo negli ultimissimi minuti con l'Inghilterra Io ho un 6 e mezzo Ma forse anche 7 Mi è piaciuto Anche per quel poco che l'ho visto 45 minuti con la Turchia se non mi sbaglio Poi si è fatto male E gli ultimi minuti con l'Inghilterra Io un voto glielo darei Io gli do senza voto solo perché ha giocato veramente poco Però comunque non è una prestazione Per quel poco che ha fatto vedere Secondo me non è stato poi così negativo Emerson Palmieri Ecco Emerson Palmieri Quasi la stessa linea di pensiero che ho per Di Lorenzo Adesso un pochino più basso però il voto Voto 7 Perché secondo me nel momento in cui si è fatto male Spinazzola La differenza si è vista Non ha mai balbettato Cioè non ha mai avuto dei grossi momenti di difficoltà Tanto tanto evidenti Però qualcosa di importante l'ha fatto vedere Ha fatto vedere qualcosa di importante Però non era Spinazzola 7 e meno Per me Spinazzola Voto 9 e mezzo Idem 9 e mezzo È stato quasi la perfezione Sarebbe stato la perfezione Se non si fosse infortunato Esatto Voto 10 Cioè non è una colpa l'infortunio Si è ben chiaro No Gli ho levato un mezzo voto Solamente per non aver giocato Perché non ha chiuso Perché non ha chiuso l'Europeo Perché altrimenti Lo stesso identico voto di Donnarumma Giocatore più decisivo Quanti men of the match ha vinto? 2 se non mi sbaglio Delle prime due gare Se non mi ricordo male Andando a memoria ragazzi La spinazzola è stata devastante E senza dubbio Il miglior terzino dell'Europeo Toloi Sufficienza Sei anche per me Diciamo che da terzino destro Non è che mi ha convinto tanto Non è il suo ruolo Però la sufficienza se la merita Ha fatto il minimo Cioè il minimo indispensabile Secondo me E lo ha fatto bene Giorginio Come spinazzola Voto 9 e mezzo Il 10 pieno non glielo do Però ragazzi Io no Io gli do 9 Io no Per me Senza Giorginio Questa squadra non sarebbe arrivata Fino a questo punto Non avremmo vinto l'Europa È vero Però Spinazzola De più Non li posso mettere alla parica Il mezzo punto Io gli do Eh no Perché io do quel mezzo punto in più A Giorginio Perché ha avuto un rendimento Perfetto Dall'inizio alla fine Dalla prima All'ultima partita Sì forse hai ragione Di contro a Spinazzola Gli levo mezzo punto Perché purtroppo Non ha giocato così Vino al suo Esatto Io gli do 9 Verratti Verratti Io penso che notte e mezzo Se lo prende Perché alla fine Da quando si è ripreso dall'infortunio Non è più uscito Sì Ne ha affatto C'ha avuto qualche piccola incertezza Mi ricordo a rientro Nella prima partita A rientro Qualche palla Velenosa Sanguinosa L'ha persa Però 8 e mezzo Dai quarti Semifinale E finale Ragazzi secondo me È stato Insieme a Giorginio Il punto di riferimento Della squadra Ma stava tutto da lui Io anche a Barella Do 8 e mezzo Sì Glielo do pure io 8 e mezzo Anche io a Barella 8 e mezzo Sì ero indeciso Tra 8 e 8 e mezzo Però non vedo Perché anche a Barella Non devo dare 8 e mezzo Barella ha giocato Sin dall'inizio A differenza dei Verratti Pure lui c'ha avuto Qualche momento di incertezza Qualche situazione Nelle ultime partite Si è visto un po' Di appannamento In Barella Un palo Il gol Tanta roba Tanta roba Semifinale finale Un po' in ombra Però ragazzi A te mezzo Solo meritano Locatelli Locatelli voto 8 Locatelli per quanto Voto 8 Non abbia giocato tutto Però quando ha giocato Ragazzi Tranne Ti ricordi Un piccolo sprazzo Era europeo Era l'amichevole No era l'europeo Già era già cominciato C'era stata la partita In cui Sì sì Aveva mostrato qualche La sua partita E poi dal momento Poi ha cambiato Completamente marcia 5 minuti contro La Turchia In quel momento È sembrato un po' Fuori luogo Però dal momento In cui ha ingranato La doppietta contro La Svizzera Tante altre situazioni Lotto pieno Se lo merita Assolutamente Io metto sullo stesso piano Pessina Perché ci hanno avuto Un percorso simile In realtà In questo europeo Forse Pessina Ha giocato un pochino Di meno Poco poco meno Vero Però Quando è entrato Si è fatto sentire Ha perso poi il posto Nelle ultime Però ti dico la verità Non mi sento Di dargli lo stesso voto Che ho dato a Locatelli Quindi per me Pessina è 7,5 No per me è da 8 Tanta troppa pure Pessina Si è ben chiaro Per me è da 8 Perché ha fatto quello Che doveva fare Cristante Cristante è stato Secondo me Un punto di riferimento Importante De Mancini Mancini zitto zitto Comunque lo ha spierato Quasi sempre Cioè sempre a partita In corso Quindi 6,5 pieno Secondo me Forse anche 7 Io io ho 7 Infatti Io io ho 7 Perché comunque Tatticamente parlando Ragazzi è stato Secondo me importante Nel suo piccolo Per questa Italia Soprattutto con l'Inghilterra Castrovilli Ha fatto una partita Dalla Madonna Castrovilli non ha giocato Che mi ricordo io Castrovilli Mi ha fatto pochissimo Se non mi sbaglio Col Galles È subentrato Ma proprio Pochissimo Per me è senza voto Senza voto ovviamente Andiamo agli attaccanti C'è Belotti Sufficiente 6 Non più di 6 Non più di 6 No perché purtroppo In campo Io poi Concludo Quando arriviamo a Immobile Quello che vorrei dire Adesso Gli edo 6 Io pure gli edo 6 Perché li metto Su un piano simile Decisivo sul rigore Contro la Spagna Questo gli era dato atto Perché ha battuto un rigore Semplicemente perfetto Ma Al punto di vista Quello Poco Poco Molto molto poco Verardi Verardi Secondo me Un 7 e mezzo Sono merita Verardi Aveva scavalcato addirittura Chiesa nelle gerarchie Ha avuto degli alti e bassi Però è stato costante Nel senso Anche quando ha cominciato a subentrare Al posto di Chiesa O comunque che faceva la panchina Inizialmente È sempre stato poi ottimo Dal punto di vista del rendimento Quindi secondo me 7 e mezzo 7 e mezzo Anche per me Federico Bernardeschi 7 e mezzo Trappeggiato Secondo me è una freddezza Che nessuno Gli avrebbe dato Ma ti dico la verità Io in primis Non è che davo tutta Sta sicurezza a Bernardeschi Eppure ragazzi Mi ha fatto ricredo 7 e mezzo Sono strameritato Chiesa Chiesa Gli vorrei dare un 9 e mezzo Ma non me la sento Perché è partito un pochino indietro Delle gerarchie Ma da quando ha cominciato A prendere piede Ragazzi è stato devastante 9 9 per Chiesa Non me la sento De metterlo sullo stesso livello Di Giorginio Stilassola No dai Gli ho 9 9 e più 9 e più Leggermente Io 9 Però ragazzi miei È stato secondo me Forse a conti fatti Il migliore che ci abbiamo Posso dire un predestinato Sì Ragazzi Sinceramente Ciro Immobile Sei De incoraggiamento Allora Io L'insufficienza Non mi sento di dargliela Anche perché ha segnato Un paio di gol Vai Sì No no vai vai Sembra che sto tranquillo Un paio di gol Li ha fatti Nelle prime due partite Però poi si è perso per strada Ragazzi Si è perso per strada E qualche limite Lo ha mostrato Mi ricollego al discorso Belotti Perché Ragazzi noi Paradossalmente parlando C'è mancato un attaccante Da tanti gol E Forse questo è stato un limite Ma È stato un vantaggio Perché il gruppo Ha fatto la differenza Non abbiamo giocato Per la punta centrale Abbiamo giocato De gruppo E abbiamo fatto Quel che abbiamo fatto Sufficiente Ma non più No purtroppo Non di più I peggiori Se così possiamo dire Belotti E Insigne E immobile Del reparto offensivo Esatto Purtroppo sì Insigne 8 e mezzo 8 e mezzo Ma gli do Un voto Leggermente inferiore A chiesa Perché Non No purtroppo Non ha avuto Quegli sprazzi Che sono stati fondamentali Decisivi Più di chiesa Più di chiesa No c'è ragione Più di chiesa No Più di chiesa No No più di chiesa No quello intendevo Esatto Quindi secondo me 8 e mezzo Perché è stato Il secondo Attaccante fondamentale E imprescindibile Cioè Davanti erano Chiese Insigne E più uno Praticamente Perché poi Immobile ha sempre giocato Di dolare Ma è sempre stato il primo Ad essere tirato fuori Quindi insigne pure Il secondo Imprescindibile Là davanti Grandissimo Raspadori Io penso senza voto Senza la vita Senza stare ad aggiungere Se non sbaglio Manca solo Mancini Manca solamente Roberto Mancini Io Voto 10 10 più Io pure 11 Esatto Pure 11 ragazzi Il 90% Del merito De questa squadra De questo gruppo De questa vittoria L'ha rimessa Completamente in piedi La nazionale Il merito è solo suo Quasi solamente suo Quello che ci ha creduto De più sin dall'inizio E quello che ha detto Ah se gioca nel 2021 Lo dobbiamo vincere quest'anno Lo vinceremo nel 2021 L'abbiamo vinto veramente Clamoroso quello che ha detto Mancini Clamoroso quello che dice Mancini L'anno fa Non l'ha detto in maniera scaramante Ha detto perché ci credeva Esatto Cioè quindi lui già un anno fa Pensava questa cosa qua Pensavo che eri seria Mannaggia la miseria Ragazzi miei Ed era veramente serio I nostri voti li abbiamo dati Date i vostri qui sotto nei commenti Mi piace, commentate, condividete Iscrivetevi a tutti i canali Profili social Li stanno compreso Tutto in descrizione Contenuti consigliati Alla prossima Con un nuovo video ragazzi Ciao Ciao regà